In questo video condividiamo una preghiera a San Giovanni Battista per intercessione di Dio per ottenere la grazia, suggerita da persone che grazie a questa preghiera hanno ricevuto l'aiuto di Dio in diversi momenti dolorosi della loro vita. Ma prima di iniziare, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale ci aiuterai a creare altri contenuti come questo. Gesù ha detto nel libro di Matteo, in verità vi dico, che tra i nati di donna non è sorto nessuno di più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. San Giovanni, prega per me, aiutami a seguire il tuo esempio quando la battaglia della vita sarà finita, prega per me affinché io possa venire alla porta della felicità infinita in paradiso. O potente San Giovanni Battista, voce nel deserto, precursore del Signore, rivolgo a te questa lunga preghiera, implorando la tua intercessione e grazia. San Giovanni, tu che hai annunciato la venuta di Cristo, hai battezzato il Salvatore e hai testimoniato la sua divinità. Oggi mi volgo a te, fiducioso nel tuo potere di intercessione. Ti chiedo di ascoltare la mia preghiera e di portarla al cospetto del Padre Celeste. Ti supplico di intercedere per me, affinché possa ottenere questa grazia speciale. Esprimi la grazia o l'intenzione specifica per cui stai pregando. San Giovanni, uomo di fede e santità, tu che hai vissuto con umiltà e coraggio, imploro la tua guida e la tua protezione nella mia vita. Tu, che hai testimoniato la verità del Vangelo, illumina la mia mente e rafforza la mia fede. Aiutami a camminare sulla strada della santità, ad amare il Signore e a servire il prossimo con generosità. San Giovanni, voce che grida nel deserto, sii la mia guida nelle decisioni che devo prendere, nella ricerca della verità e nel discernimento. Ti prego di intercedere per me e presso Dio, affinché la sua grazia e misericordia si riversino su di me. Chiedo la tua intercessione per la mia famiglia, i miei amici, i bisognosi e il mondo intero. San Giovanni Battista, amico di Gesù, aiutami a preparare la via del Signore nella mia vita, a riconoscere il suo amore e a seguirlo con tutto il cuore. Ti offro questa preghiera come un atto di fiducia, sapendo che sei pronto ad ascoltarmi e a intercedere per me. Accogli le mie parole, oh Grande Santo, e presentale al Padre con la tua intercessione potente. San Giovanni, ti ringrazio per la tua vicinanza, per la tua guida e la tua protezione costante. Confido nella tua intercessione e nella bontà di Dio, sapendo che la sua volontà si compirà nella mia vita. Amen. Se questa preghiera ti è piaciuta, iscriviti al nostro canale ed attiva la campanella. Ci aiuterai a creare contenuti come questo. Lascia nei commenti un tuo pensiero o una preghiera che ti ha ispirato questo video.